Un saluto a tutti, ben ritrovati si fa per dire, buona giornata, speriamo. Non so davvero da dove iniziare, non so che cosa aggrapparmi, non so come non si riesca uscire da questa crisi nera e profonda, non so davvero che cosa salvare, sono deluso, amareggiato, arrabbiato, incredulo, mai mai avrei pensato dopo uno scudetto vinto di poter affrontare un periodo come questo. Mai avrei pensato di vivere un'altra umiliazione dopo quella di Bergamo con questi ragazzi, perché ieri il Milan, calcisticamente parlando, è stato umiliato. Squadra ancora una volta senza anima, senza amor proprio, senza cuore, senza cattiveria, senza attaccamento alla maglia, senza spirito, senza identità, senza gruppo. L'assenza del gruppo è quello che purtroppo più fa riflettere. Quel gruppo che lo scorso anno ci aveva fatto vincere perché eravamo più squadra delle altre, non perché eravamo più forti, eravamo più squadra delle altre. Mai avrei pensato che si potesse rovinare tutto in pochi mesi. Quando vinci tu il gruppo diventa più maturo, devi alzare il livello, invece noi ci siamo sciolti come la neve al sole. È inaccettabile e io dico vergogna, è una parola forte, nel calcio è una parola che non mi piace usare, ma in questo momento secondo me purtroppo è una parola sincera, onesta, naturale e spontanea. Vergogna perché si può perdere una partita. Sfortuna, magari. Si può perdere un'altra partita, si può pareggiare, ma se tu arrivi da una serie di risultati del genere in cui scendi in campo sempre con l'encefalogramma piatto è una cosa, secondo me, della quale vergognarsi. 2-2 con la Roma, Milan-Torino 0-1 con un uomo in più quando ti aspetti la reazione dopo i due gol presi con la Roma, Lecce-Milan 2-2, andiamo sotto di due gol contro il Lecce che sembrava Real Madrid, Inter-Milan 3-0, Lazio-Milan 4-0. Stiamo facendo sempre, sempre peggio. Abbiamo chiuso, gli ultimi tre primi tempi, 2-0 per l'avversario e significa che bisogna vergognarsi perché non c'è amor proprio, non c'è passione, non c'è reazione, non c'è cuore e senza cuore non vai da nessuna parte. Sono davvero molto deluso, non ha senso neanche fare le pagelle oggi. Verrebbe da dire che c'è sicuramente un problema portiere, sul due gol ieri sicuramente corresponsabile, sul terzo invece di uscire torna in porta, ma non è l'unico. Calabria ieri si è fatto umiliare da Zaccani. Calulu, male. Tomori, irriconoscibile. Dest non ha fatto grandi cose. Ben Nasser e Tonali, ieri Tonali ha fatto tanti errori. Ben Nasser, io vedo che quei due corrono corrono per 10 ma non possono correre per 10. Messias, Diaz, Leao, Giroux, ecco, mi soffermo su Leao, scollegato. Sembra che abbia staccato la spina, ma non ieri, da tempo. Scollegato. Non c'è Leao in campo. Sembra sfiduciato, svogliato, rassegnato, deluso e ci mette zero del suo per provare a cambiare qualcosa. Una squadra che è piatta, che non ha dei leader, che non ha dei sussulti di orgoglio. Poi Kira ha fatto qualche buon intervento, però poi non è che ha tirato sulla squadra. De Ketelare è stato meglio di altre volte. Sare Makas, Oribi, Rebic. Origi ha toccato quattro palle in 40 minuti. Ora, voglio parlare anche di Pioli. Pioli, che ripropone quella formazione, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Come fai a riproporre la formazione con cui hai perso male il derby? ancora quattro attaccanti, perché Leao, Diaz, Messias e Giroud sono quattro attaccanti. Quando stai subendo due gol a partita, ancora questa è presunzione, purtroppo è presunzione. Come fai a riproporre lo stesso schieramento? Stiamo subendo troppo e tu non metti un centrocampista in più. Ma come cavolo si fa a fare una cosa del genere? E poi abbiamo preso gol con Lecce al terzo minuto, con l'Inter al decimo, con la Lazio al quarto. Sempre scendiamo in campo e stiamo ancora dormendo. Abbiamo preso la bellezza di nove gol nelle ultime tre partite. Abbiamo fatto appena due reti nelle ultime quattro partite. Sono numeri pietosi, vergognosi. E quando dicevo qualche partita fa bisogna darsi la sveglia, altrimenti qualcuno mi diceva abbiamo appena due punti in meno lo scorso anno. Ragazzi, consapevolezza, tutti quanti, tutti, altrimenti non si va da nessuna parte. Mi aspettavo sinceramente anche che Maldini si presentasse ai microfoni con il bastone, non con la carota. Non si può presentarsi ai microfoni e dire siamo in linea con i programmi, no. Il mercato è più di così, no. Il mercato su questo mese c'entra a zero. Quando giochi con Lecce, quando giochi col Torino con un uomo in più, quando giochi ieri e non hai una minima reazione, il mercato non c'entra. C'entra il gruppo, lo spogliatoio e si è perso qualcosa purtroppo. Ed è molto grave che tu dopo una serie di risultati deludenti non ti sei ancora svegliato e riesci sempre a far peggio. Pioli dice ieri male senza palla ma la manovra non mi è sembrata male. La manovra? Che cosa abbiamo fatto di manovra? L'unico pericolo con la punizione deviata di Ben Nasser. La manovra? A me sembra che tutti siano finiti su un altro pianeta e non riescono più a tornare sul pianeta Terra. Mi sembra che siamo tornati purtroppo a Atalanta Milan 5 a 0. Il problema è che dopo quella partita arriva la terapia d'urto, l'effetto shock Ibrahimovic. Ieri, dopo una sconfitta umiliante, ma lì dice, però siamo in linea con i nostri obiettivi. Non vedo consapevolezza della gravità del momento. Non vedo giocatori che si vogliono bene, che vanno d'accordo tra di loro. Non vedo più il gruppo, purtroppo ragazzi è così ed è qualcosa di inaccettabile, di grave e secondo me chi gioca in quella maniera si deve vergognare perché non gioca, non sta giocando per la maglia, non sta giocando per i tifosi, non sta giocando neanche per se stesso, per l'amor proprio. Sono incredulo. Troppi errori. a tutti i livelli, ma qui la sveglia non arriva mai e se noi si continua così, tra tre settimane siamo stessi in classifica e se falliamo la Champions League sono problemi seri. Ragazzi purtroppo non riesco, poi dici, però adesso a che cosa ti aggrappi? Non riesco ad aggrapparmi a nulla. Siamo stati umiliati ieri. Ed è ancora più grave che non è un episodio, sono una serie di fatti che stanno accadendo. Tataruzano non può fare il portiere dodicesimo del Milan, Calabria, Caluto, non salvo nessuno sinceramente. Giroud non dovrebbe giocare, è piantato, non ce la fa e gli altri... non so cosa dirvi ragazzi. Non so davvero cosa dirvi se non che è un incubo e che si devono dare tutti una bella svegliata. Lo ribadisco, è una squadra che si è persa, è un Milan che si è rotto in tanti pezzi. Non so se si riesce a mettere insieme. E li metto tutti dentro. Squadra senza anima. Quando uno scudetto sul petto non puoi giocare così. Mercato, non mercato, non puoi scendere in campo con quell'atteggiamento. Sono proprio deluso, deluso, deluso nel profondo, come credo a questa grande maggioranza di voi. è una cosa che... non dico mi viene da piangere, però è un Milan che fa piangere. Ci hanno rovinato sul più bello qualcosa che poteva essere bellissimo e non si riprendono e non si svegliano. Sono senza parole, scusate, ma... non riesco a grapparmi a nulla. Pazzesco. Dico solo che è una vergogna e finisco qui. Ci vediamo più tardi. Commentate qui sotto se vi va.